A Roseto degli Abruzzi, nell'ultimo consiglio comunale, è stata approvata la delibera relativa al terreno su cui realizzare entro il 31 dicembre 2022 il commissariato di polizia, un'area di oltre 2.500 metri quadrati in zona Borsacchio, subito dopo un condominio adiacente a Villa Paris. Questa sarà la destinazione definitiva che il comune ha trovato per portare in città il commissariato di polizia, ma nel frattempo ha precisato il sindaco Sabatino di Girolamo che è stato proposto come sede provvisore ai locali del Prus Monti, dove manca solamente un atto notarire per acquisire definitivamente la proprietà. Il servizio logistico del Ministero dell'Interno ha già ispezionato i locali al piano terra, con tre ingressi diversi, quindi un'ampia autonomia per un eventuale commissariato. Io credo che questa non debba essere una guerra di campanili perché risulterebbe una guerra tra poveri, questo deve essere e va nella direzione poi di un ricollocamento delle strutture, delle forze dell'ordine a seguito anche di uno spostamento di flussi di popolazione dall'interno verso la costa. È indubbio che sulla costa è presente più popolazione rispetto che all'interno, che Roseto da solo triplica le presenze d'estate arrivando quasi a toccare le 80.000 unità e che quindi andrebbe a servire un comprensorio molto più ampio, quindi non solo Roseto. Roseto è baricentrico in questo caso perché nell'edificio che andrebbe temporaneamente ad occupare eventualmente il commissariato si trova in una posizione che permette di raggiungere la statale 16 perché si trova su quella direttrice la statale 150, nonché arrivare anche sulla statale 80. Quindi diciamo baricentrico anche rispetto agli altri comuni della costa, per cui credo che questo è un passo che il comune di Roseto ha fatto dietro richiesta da parte delle autorità per far sì che si possa spostare un commissariato sulla costa baricentrico rispetto agli altri comuni, anche perché non scordiamoci che il grosso dei reati più del 50% vengono commessi sulla costa rispetto al totale di quelli provinciali. Grazie a tutti.